Il prodotto interno lordo del Molise è cresciuto dell'1,6% confermando il trend dell'anno precedente quando l'incremento era stato dell'1,7%. A incidere positivamente sono stati soprattutto i settori edile e agricolo. Lo rileva il rapporto Svimezza sull'economia del mezzogiorno che sottolinea anche come il ritmo della crescita del Pilar Sud sia ancora troppo lento.